2500 7 metri di percorrenza per la 300 super sport con il polman mattia sorrente a suo fianco bollani ed aloisio tutti pronti a battagliare per una vittoria che è fondamentale per quanto riguarda quel divarano giro di boa sarà uno spettacolo come sempre assicurato sono tutti molto compatti a tra poco per una gara che si pronuncia esaltante Andrea Longo alla vigilia del terzo round sull'autodromo di Magione una pista dove staccare forte è fondamentale sì è una pista con delle staccate molto forti violente temperatura fa caldo e cercheremo di di stare di stare in piedi che il grip non è il massimo però dai siamo qui in seconda fila e l'obiettivo sarà stare con i primi e speriamo di fare una bella gara mattia sorrenti dalla prima posizione non c'è che da augurarsi e da aspettarsi un garone sì ciao ciao a tutti adesso puntiamo tutto sulla gara e le qualifiche sono andate bene abbiamo fatto prima posizione sia qualifica uno che qualifica due e adesso dai testa la gara avversario che temi di più sono i primi bizzannoni bolla sono loro principalmente mirko carpinone una qualifica con qualche problema ma la gara è tutta un'altra storia la gara è tutta un'altra storia adesso tra pochi attimi si parte si cerca di fare una bella partenza e poi ce la giochiamo in gara qual è secondo te il segreto per essere efficaci su una pista così essere molto tecnici anche sulla guida e non fare errori 2.507 metri di percorrenza per il polman mattia sorrenti al suo fianco davide bollani a fianco ancora pietro aloisio e poi virone sala lungo zannoni aloisio cervioni dotti questi primi dieci sorrenti colombo carpinone arriva sabetta a chiudere la griglia di partenza sventro la bandiera a vedere le spalle la bandiera rossa si allontana tra poco il via della terza tappa del maggior di trofei moto estate via partiti buona la partenza da parte di bollani che mi sembra poter soffiare la prima posizione a sorrenti sì però un rischio da parte di bollani che fa un po' una manovra particolare non vogliamo dire sporca non una grande partenza da parte di dotti che mi sembra trovarsi in penultima posizione sono riuscito a scorgere con le immagini sì è così lì davanti ci sono quei due ad incalzare alle spalle virone che in terza posizione e subito dotti che cerca di infastidire jacopo colombo in terz'ultima posizione bollani e sorrenti mi sembra che abbiano un certo tipo di feeling con l'asfalto e che provano a scappare virone intanto si trova a fianco ad aluisio con zannoni che è pronto ad entrare con cervioni certi che fa qualcosa a zannoni come per dire passa passa non lo so se gli stesse dicendo vai e può sfruttare la potenza della sua moto subito giacomo zannoni che si infila in fila cervioni e prova subito a bissare il sorpasso avvicinandosi tantissimo stefano sala mamma mia zannoni deve cercare di inseguire non ha avuto una particolare feeling con la pista ce lo diceva e non erano particolarmente soddisfatti per quanto riguarda il il suo box ma cercava di dare massimo allora virone terzo ad aprire un gruppettino che si sta aprendo e sta diventando sempre più importante a ventaglio con bollani sorrenti davanti due grandi amici aloisio prova di filare virone ma non ci riesce zannoni che si fa in commenti minaccioso alle spalle di questo gruppetto e potrebbe diventare effettivamente un pilota che può dar del filo da torcere mentre quei due le davanti stanno facendo tutto un altro sport un secondo e due di distacco rispetto al gruppone bollani sorrenti prova ad infilarlo e ci riesce passa sorrenti ma bollani gli restituisce pan per focaccia si accoda sorrenti alla fine sorrenti si mette davanti sorrenti bollani e occhio perché aloisio dietro ha rotto gli indugi e sta provando a spezzare quel gruppone anche probabilmente per provare ad andarsene a vedere se riesce ad vicinare se gli altri andrea longo che sta facendo un'ottima gara alle spalle di cervioni cervioni ha avuto un buono spunto e sta cercando di provare di andare intanto francesco aloisio si accoda proprio a longo con cervioni alle spalle che sta cercando di andare longo che si fa minaccioso vediamo se prova ad infilarlo qui alla staccata no non ci riesce cervioni chiude molto bene con la soglia ma allora cercherà probabilmente successivamente lungo di infilare cervioni ammesso che ci riesca ammesso che sia una buona idea ammesso che di davanti quei tre stiano cercando di serrare anche loro le fila con aloisio virone zannoni che stanno provando ad andare e con sorrenti che adesso ha messo qualche metrino tra sé e bollani 3 su 8 leggetto 8 in realtà sono 11 i giri di percorrenza zannoni si affianca a virone lo passa super sorpasso alla fine del rettilineo da parte di giacomo zannoni proprio su virone mentre alle spalle sala guarda circospetto tutto quanto e sta cercando di capire se ci sia la possibilità di provare ad infilare virone sala si accoda virone ma soprattutto zannoni scavalca virone prova a gettarsi all'inseguimento di aloisio può sembrare una buona idea lo è sicuramente soprattutto se ne ha per provare a stargli dietro zannoni ha bisogno di fare tanti punti per provare a mantenere inalterato il sogno di stare vicino a quei due lì davanti a quei due guasconi che stanno scappando che stanno facendo tutto un altro sport con bollani che comanda la classifica generale aloisio alle spalle e via via che si incastrano un po tutti quanti virone con sorrenti che deve per forza di cose vincere tutte le gare e sperare in qualche passo falso da parte di bollani perché quello zero nel primo appuntamento in quel di varano sta facendo tantissimo la differenza zannoni sta provando a non mollare virone va mollato un po sala zannoni cerca di stare davanti a virone e di studiare in qualche maniera luisio che però ne sta profittando per scappare e intanto lì davanti è una solo da parte di sorrenti e bollani che se ne vanno via e stanno facendo una gara discretamente interessante quei due lì davanti è cervioni intanto alle spalle sta provando a rintuzzare anche lui la sua gara con un certo tipo di andamento in quei due lì davanti ci sono i quattro il gruppetto dei quattro che si è formato è molto interessante lo ripeto aloisio zannoni virone e sala e poi dietro c'è l'altro aloisio c'è longo che sta cercando di serrare le fila e c'è anche cervioni non riescono a dare un buono strappo quei tre però stanno cercando di restare se un altro franco bollati l'un con l'altro e si sono formati c'è un bello spacchettamento strano per essere una 300 super sport ma i due lì davanti stanno facendo un altro sport allora carpinone che cerca anche lui di inseguire l'ha detto di non essere particolarmente fiducioso sta cercando di ricostruirsi chiaramente e di creare e di avere un buon feeling con la moto ma ha accusato qualche problema e ce lo diceva durante le classiche interviste pregara lì davanti bollani ha passato sorrenti e allora occhio perché si stanno interscambiando molto spesso le posizioni perché sappiamo come sorrenti a un certo punto da cobra con quel killer instinct quando mancano due giri cerca sempre di provare ad andarsene cerca sempre di creare un grattacapo a tutti gli altri piloti in questo caso a bollani 5 su 11 mancano ancora tanti giri è un'eternità è un'eternità leggete 5 su 8 largo bollani passa sorrenti sembra quasi come se lo avesse accompagnato per farlo passare è il cervio lo vedete davanti ad andrea longo cervioni con l'ongo che sta provando anche lui in qualche maniera in tutte le maniere ad avvicinarsi a scavalcarlo ma non ci riesce l'ongo che ha avuto ottime sensazioni mamma mia si è avvicinato tantissimo e intanto lì davanti la sfida che incombe tra quei due che se le stanno dando di santa ragione che continuano a passarsi anche forse delle scaramucce delle avvisaglie tra di loro longo intanto che deve cercare di tenere a bada l'oisio mamma mia sfida totale là dietro tra i piloti che stanno cercando di incastrarsi con andrea sorrenti anche e voi vedete lungo chiaramente che si trova in seconda posizione di un gruppetto di quattro con cervioni che se ne sta andando via lungo che sta provando in qualche maniera davvero a restare collegato connesso mamma mia staccatona di cervioni staccatona di lungo aloisio francesco alle spalle e c'è anche un altro gruppetto di quattro perché sorrenti è salito sul fratello di mattia e sta cercando di mettersi anche lui alle spalle della yamaha di cervioni che guida questo gruppetto con la kawasaki anche nel gruppetto aloisio sta provando ad andarsene via ma non riesce mai a scappare zannoni quando tagliano il traguardo del sesto giro sta continuando a controllare aloisio non capisco se non riesca ad averne per avvicinarsi ad aloisio oppure se la minaccia davvero fragorosa e importante di virone lo sta portando a rimanere lì a non riuscire a fare quello scatto elastico mentale per avvicinarsi a colui che in questo momento si trova in terza posizione che è pietro aloisio lì davanti quei due fanno uno sport a sé e allora li stanno anche lasciando andare anche perché tra un po sarà bagar totale bagar time tra mattia sorrenti davide bollani intanto giacomo zannoni inquadrato che cerca di avvicinarsi più possibile al diretto contendente mamma mia mamma mia lorenzo dotti passa carpinone mamma mia lorenzo dotti per fortuna nulla di grave per lui ma chiaramente bandiera rossa dopo questa caduta l'importante è vederlo in piedi zannoni intanto viro ne abbiamo visto sventolare le bandiere rosse quindi tra poco c'è la restart eccoli qua si riparte con le posizioni che hanno acquisito durante la gara bandiera rossa che si accende bandiera rossa che si spegne via partiti ancora bollani su sorrenti mamma mia bollani con quelle manovrine occhio davide che però passa davanti a tutti davanti a sorrenti vediamo l'altro sorrenti penultima posizione non ha avuto un grande spunto bollani sorrenti e adesso è davvero una sprint race la caduta di longo che peccato andrea longo vanifica tutto la sua rabbia vanifica tutto andrea longo che peccato dietro intanto bollani sorrenti aloisio zannoni di nuovo si deve accodare a virone questa volta è stato in quinta posizione carpinone che non è riuscito ad avere un grandissimo spunto a questo punto deve cercare di inseguire in tutte le maniere accusando un po sul contro rettilino ma adesso è chiaramente tutta un'altra gara è una sprint quattro giri dove devono dare il meglio di loro i piloti soprattutto sorrenti che deve ricostruire la vittoria che stava avendo precedentemente bollani e subito sorrenti che si fa minaccioso e subito si sta creando una discrepanza e di nuovo zannoni su virone che si trova in quarta posizione vediamo sorrenti che prova a mettere ansia e pressione a bollani e chissà che non ci riesca sin da subito escono fortissimo dalla chicane poi la curva che mette nel rettifilo finale con una bandiera bianca e nera che sventola proprio per bollani per via della partenza che i giudici non hanno ritenuto essere una buona partenza e allora bandiera bianca e nera occhio perché se lo rifai bandiera nera e vieni cacciato dal circuito davide bollani che adesso è concentratissimo per cercare di mantenere sorrenti alle spalle per mantenere e per cercare di arrivare ad una vittoria che sarebbe pesantissima per lui e anche se arrivasse una seconda posizione sarebbe molto importante aloisio zannoni si è sbarazzato di virone sta cercando di andare all'inseguimento di aloisio potrebbe anche essere un'altra gara per zannoni che sta cercando in tutte le maniere di restare franco bollato ad aloisio che in qualche maniera cerca di fare qualche non zigo zago strano ma cerca di allontanare l'incombenza di un tentativo di sorbasso di zannoni che c'è giacomo zannoni terzo di forza di peso sul contro rettilineo vediamo se riesce a tenere però la posizione adesso solo iso che nel tratto misto è sembrato avere qualcosina in più rispetto a giacomo zannoni in questo momento sembra di sì mentre le telecamere indugiano sul gruppetto alle spalle sala cervioni e l'altro aloisio che si stanno battagliando e contenendo una posizione importantissima per fortuna nulla di grave per quanto riguarda le condizioni di dotti per quanto riguarda la sua caduta bollani sorrenti mamma mia altro passaggio e adesso sorrenti vuole forzare vuole serrare le fila deve per forza di cose cercare di andare a costruirsi la vittoria lo deve fare in quello che è l'ultima parte di gara quello che sono gli ultimi soffi zannoni mamma mia sta cercando di fare in tutte le maniere per tenersi stretta la terza posizione alle spalle aloisio sta cercando anche lui di serrare le fila si è formato un trittico aloisio o meglio zannoni aloisio e il buon virone carapinone intanto anche lui il tentativo disperato di inseguire sorrenti e gli altri piloti che si sono parati di fronte per cercare di rendere meno amaro questo weekend chiaramente non è facilissima per lui la situazione ma sta cercando di renderla più semplice possibile vedete i dissestamenti di un circuito molto bello ma anche molto complicato da guidare a detta dei piloti zannoni cerca di tenere la terza posizione lo sta facendo in tutte le maniere con aloisio che gli si fa fortissimo e minaccioso alle spalle con sorrenti che si fa fortissimo minaccioso alle spalle di bollani con zannoni che deve cercare di tenere la posizione e lo sta facendo in tutte le maniere possibili ecco qui l'altro passaggio è il penultimo e tra poco ci troviamo in quello che è il final lap zannoni tiene la posizione bollani tiene la posizione in questo momento sarebbe bollani sorrenti zannoni in occhio perché aloisio sta provando ad infilare lo stesso giacomo zannoni chissà che non ci sia riuscito tra poco lo verificheremo con l'ausilio delle immagini francesco aloisio a chiudere questo gruppone che cerca di seguire cervioni no non c'è riuscito per adesso c'è ancora zannoni davanti su aloisio eccoli qua sala cervioni aloisio alle spalle che combattono digrignano e cercano di volare per mantenere una posizione che per loro è fondamentale zannoni davanti bollani che in questo momento si va davanti a sorrenti e chissà che sorrenti non stia cercando di capire qual è la posizione migliore per provare a scavalcare il suo grande amico l'amico fraterno davide bollani zannoni intanto alle spalle stavo guardando sta cercando di tenere anche lui eccolo qui giacomo zannoni col suo motone numero 40 riesce in questa maniera è incredibile perché aloisio viene scavalcato da virone aloisio scavalcato da virone che ha rotto gli indugi e prova ad andare su zannoni de virone su zannoni lo possa sorpasso super di virone su zannoni che tiene la posizione di rone sorrenti davanti intanto e va a vincere mattia sorrenti scavalca bollani all'ultimo virone terzo zannoni quarto per un pelo quinto aloisio vince super mattia sorrenti secondo bollani terzo virone quarto zannoni quinto aloisio grazie a tutti